La missione ai poveri, agli emarginati e agli abbandonati. La vita di Sant'Eugenio de Masnot era sempre sulla base di avere lo zelo di consacrarsi al servizio dei poveri. Degli emarginati e dei giovani. Ha incominciato col ministero ai carcerati. Inoltre, ha radunato a sé i ragazzi che lui stesso istruiva. Preghiamo per la sua intercessione, che potessimo rispondere ai bisogni dei poveri in molteplici volti ed avere la gioia di infondere nelle loro anime l'amore e l'onore della loro fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.